Io e il mio partner eravamo alle costole di uno spacciatore. Non è andata. Ha un microfono, Charlie! Charlie! Tre anni in prigione. Potresti essere morto. Qui in città i poliziotti ti odiano. Insomma, che ho fatto? Ho sbandato! Se la prenderanno con quelli a cui tieni. Non credo. So che lavori per un'agenzia governativa. L'FBI, la CIA, la FOTTT. Una di quelle. Nient'altro? Un po' indietro. Non male. Devi farti da parte. Ficcare il naso in questa storia non farà che peggiorare le cose. Tu credi? Hai smesso di combinare guai? Qual è la risposta esatta? Dimmi che lo possiamo fare. Può mettersi male. Lo so che non sei un venduto come vuole far credere Driscoll, ma se decidi di andare da lui e ucciderlo, è quello che diventerai un poliziotto corrotto. È tutto piuttosto chiaro. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao! Ciao!